Far parte di tutto il lavoro fatto all'interno del GECT sul tema dell'inclusione sociale è stato fondamentale per conoscere le realtà degli altri territori, metterci in relazione, ma soprattutto fare tutto un lavoro propedeutico che poi ci ha portato alla pubblicazione del Vademecum sulle iniziative diciamo rivolte all'inclusione sociale che fotografa esattamente quelle che sono le collaborazioni del pubblico e dell'ONG in materia così di inclusione sociale. Inoltre del progetto Socialne vključevanze, abbiamo in un'info.info di tre regioni, in cui abbiamo iniziato un'info.info, in cui abbiamo iniziato un'info.info in cui abbiamo iniziato un'info.info in cui abbiamo iniziato un'info.info, in cui abbiamo più iniziato un'info, siamo collegati una comunità con la comunità che abbiamo esplodato un'info, dove abbiamo installato un'info internazzi un'info internazzi ed è stato un'info internazzi qui si chiama la comunità di innovazione ed è un'info internazzi e saranno anche calciare che i tuungi internazzi per fare più amici e più amici e più amici e amici.